Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa mattina di lavori dedicata ai motori, le miglia dei motori, modello per la crescita. Ed è un modello interessante e importante, ed è importante capire se questo modello funziona e se potrà funzionare in futuro, perché dall'osservatorio che abbiamo dal Sole 24 Ore, quello a cui stiamo assistendo in questi anni, ancora di uscita difficile e faticosa dalla crisi, è che se esiste effettivamente un modello di sviluppo e uno spazio nei mercati globali per l'Italia, esiste nelle produzioni non più di larga serie, esiste nelle produzioni cosiddette ad alto valore aggiunto, esiste nelle produzioni di nicchia, di alta qualità, dove vince la tecnologia, dove vince la customizzazione, questo anche in area in cui siamo leader riconosciuti, ad esempio nelle macchine utensili, mi spiegano nelle grandi serie, ad esempio nei torni, nei semplici torni, non vinciamo, non vinciamo più perché siamo perdenti rispetto ad altri fattori di produzione, siamo invece ancora vincenti in tutto ciò che è appunto elevato valore aggiunto. Ed è interessante capire se il modello che abbiamo qui in Emilia, in particolare a Modena, funziona oggi, funziona direi di sì, visto le performance delle aziende che sono a questo tavolo, ma se questo può funzionare anche in futuro e che cosa fare soprattutto, perché questo è l'altro grande punto, è l'altro grande insegnamento della crisi, cosa fare per mantenere questa capacità competitiva nel futuro? Perché quello che noi vediamo a tutti i livelli, se guardiamo anche ai livelli istituzionali, i cambiamenti nella forma di governo e di gestione del bicameralismo, sparisce in Italia il bicameralismo, ammesso che il referendum confermi questa tesi, ma insomma la scomparsa del bicameralismo significa comunque che anche a livello istituzionale c'è una manutenzione straordinaria in atto, c'è a tutti i livelli, c'è nel mondo delle fiere, c'è nel mondo degli aeroporti, c'è nel mondo delle province che spariscono, o quasi, c'è nel mondo delle imprese, come sanno tutti gli imprenditori che hanno dovuto cambiare molto all'interno della propria struttura di costo e di prodotto per reagire alla crisi. Quindi stiamo in una fase di profonda manutenzione e di cambiamento. E si tratta di capire che cosa il territorio può fare, quali leve può utilizzare, come può intervenire per far sì che tra dieci anni magari ci si trovi qui a questo tavolo con le stesse aziende, magari anche con aziende nuove, nate nel frattempo, con produzioni aumentate, con posti di lavoro aumentati, con un valore aggiunto che resta qui sul territorio. Quindi l'idea è nulla è scontato, nulla è eterno, oggi i meccanismi più o meno funzionano, sono perfettibili e migliorabili e dobbiamo farlo, dobbiamo farlo perché gli altri si stanno muovendo. Io guardavo in termini banalmente di formazione, che è uno dei gap che l'Italia ha nei confronti degli altri paesi, una ventina d'anni fa noi avevamo un po' più del 2% di quota di mercato sugli studenti che si iscrivevano ad Harvard, all'MIT, che è una delle aree di eccellenza mondiale nella formazione di tecnologia. Oggi siamo scesi al di sotto del 2% per la prima volta, i cinesi hanno raddoppiato il loro numero, sono in fortissima crescita cinesi, indiani, coreani, ma anche turchi. E quindi noi oggi ci troviamo in un mondo anche a livello di formazione in cui competiamo con paesi che un tempo proprio in questo ambito non esistevano. Noi oggi qui abbiamo tutti gli ingredienti per capire dal lato delle aziende che cosa accade in termini produttivi, quali sono gli sviluppi che vedono i big del territorio che sono qui rappresentati, quindi Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini, e che cosa le istituzioni locali possono mettere sul piatto in termini non soltanto di soldi ma anche di regole, di opportunità, di modelli di sviluppo, di linee di indirizzo, di linee guida, di facilitazioni per le università, interazioni con il mondo della formazione, per capire cosa fare appunto per restituire, per ridare, per mantenere questo modello vivo e vitale nel futuro. Noi abbiamo quindi le aziende che presentiamo tra un attimo, avremo le istituzioni locali, alla chiusura avremo anche la parola della politica con Massimo Mucchetti che ha lasciato il mondo del giornalismo, è diventato adesso senatore, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato ed è tra l'altro anche per il suo passato professionale, ha scritto molto di questi temi, quindi il mondo dell'auto è un mondo che conosce a fondo. Quindi io mi taccio e cominciamo senz'altro, all'interno di questo convegno il punto focale sarà una presentazione di una ricerca di Alex Partner che va a fotografare quello che è oggi il territorio, cosa si produce qui, chi lo fa e quali sono i gap se esistono in termini di formazione, quali sono le risorse aggiuntive che mancano e che cosa si può fare per crearle nei prossimi anni. La parola quindi a Maurizio Torreggiani, presidente della Camera di Commercio di Modena, che invito al podio. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto orgoglioso che si svolga questo convegno. Non credo che si possa immaginare Modena senza il suo settore automobilistico, che lo si possa descrivere senza e che la si possa descrivere senza riferirsi ad esso. E' parte di noi, del nostro essere, ce lo sentiamo dentro, fa parte molto probabilmente del nostro DNA, della nostra storia e soprattutto del nostro presente. La Motor Valley, che si estende in Emilia-Romagna, rappresenta una peculiarità tutta emiliana. E' connotato essenziale del nostro territorio, uno dei punti chiave della crescita di quest'area e del suo sviluppo. L'industria italiana nel 2015 ha registrato una crescita annua di fatturato superiore al 2,5% e vede quale settore di traino, quella della produzione di automobili e di motocicli, con un aumento della domanda sia interna che esterna e estera del nostro Paese. Per rimarcare l'importanza dell'automotive nel generare lavoro e opportunità, credo che basti ricordare farvi un esempio. Nell'automobile e nell'auto, i primi 200 fornitori contano circa il 50% degli acquisti in termini di materiali, manufatture e assemblaggio. Negli smartphone, invece, i primi 200 fornitori contano il 97% degli acquisti. Quindi immaginate la capacità di produrre lavoro che ha il settore di cui stiamo oggi sviluppando, ancorché della qualità di questo settore. Oltre ad essere uno dei punti di forza della manifattura, ovviamente italiana, e parte essenziale del nostro manifatturiero provinciale e regionale, il settore automobilistico rappresenta, consentitemelo, anche uno dei fattori di turismo, soprattutto da noi, di turismo locale, che alimenta il flusso di presenze, soprattutto straniere, nel nostro territorio. Vale la pena di ricordarci a vicenda che siamo eredi di una ricchezza unica e inimitabile, di una specializzazione apprezzata in tutto il mondo, e che di questa ricchezza dobbiamo essere grati sia ai grandi personaggi che hanno radicato la cultura dei motori in questa terra, ma anche alla dedizione, alla laboriosità, alla creatività e alla passione di tanti che sono gli artefici del distretto della meccanica. Partendo dalla condivisione di queste considerazioni, di questi presupposti, è nato il progetto che ci è stato proposto un anno fa e che ci viene oggi presentato. Credo che l'obiettivo di questa ricerca e di questo evento non sia quello di mostrarci una fotografia, solo una fotografia del settore, un'immagine statica, ma il suo esatto contrario, e cioè una ricerca dinamica che a partire dai principali soggetti, le principali imprese, ampli e su raggio d'azione, alle imprese della sua fornitura che ruotano intorno ad esse. Una ricerca che interroga, indaga, punti di forza e criticità, che verifica necessità e spazi di ulteriore crescita, ulteriore crescita e sviluppo, che condivide richieste e possibili soluzioni. E lo fa rivolgendosi ai diretti interessati, a chi vive all'interno della produzione automobilistica e del suo indotto. Una ricerca che vuole fare leva su ciò che è già un punto di forza per dare ulteriori riflessioni, spunti di crescita e convergenze. L'essere di fronte a un settore di eccellenza non significa infatti che non possono esserci margini per un ulteriore miglioramento, uno scatto collettivo di una comunità. Sono stati questi obiettivi a convincerci, a convincere della bontà della ricerca. Sono queste le premesse che ci hanno portato ad unire competenze, risorse, energie, per realizzare questo progetto. Un'unione di intenti che ha accomunato enti, istituzioni, istituzioni diverse, pronti a scommettere, sì, a scommettere ancora sull'automotive. Un esempio anch'esso positivo della capacità del nostro territorio di fare sistema, di condividere obiettivi in funzione e soprattutto in funzione del nostro territorio e delle imprese che ci sono insediate. Grazie dell'attenzione. Grazie a Maurizio Toregiani. Invito sul podio Walter Cajumi, presidente di Confindustria Modena. Prego. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio le autorità per essere presenti, i nostri illustri ospiti che hanno accettato l'invito di commentare questo convegno con noi oggi. Permettetemi non di ringraziare il collega amico, l'ingegnere Andrea Bozzoli, amministratore delegato di COXA, HPE e membro del consiglio direttivo di Confindustria Modena. Il suo contributo è stato importantissimo per la realizzazione di questo evento. Sono particolarmente orgoglioso che il convegno di oggi costituisca ufficialmente l'occasione per presentare una proposta integrata e articolata di valorizzazione del comparto automotive. E' noto a tutti che la nostra regione viene riconosciuta come la terra dei motori, il luogo in cui si concentra una tradizione e una capacità tecnologica e produttiva unica al mondo, nell'ambito dell'industria automobilistica e in specifico nel motosport. A Modena, con la sua storia e con i suoi marchi, universalmente noti, quindi Ferrari in primis con le sue auto da sogno e con la Formula 1, rappresenta il cuore pulsante, quindi il principale propulsore di tutto il nostro comparto. Non a caso il gruppo FCA ha scelto la nostra città come punto di riferimento per il rilancio di un grande brand come l'Alfa Romeo e ha insediato nella nostra città il centro di sviluppo dei motori della Casa del Biscione e della Maserati. Questo significa che la forte vocazione dell'automotive che caratterizza il nostro tessuto industriale rappresenta un valore aggiunto inestimabile, da noi da troppo tempo sottovalutato. Invece abbiamo tutte le carte in regola per competere con i grandi poli produttivi dell'auto e del suo indotto, come Torino, Stoccarda o Birmingham. La materia prima non manca, abbiamo cinque grandi casi produttrici che rispondono a un mercato premium, dove la qualità, la tecnologia e l'immagine fanno certamente la differenza. A questi si affianca un indotto, e questo certamente non è da sottovalutare, di quasi 200 aziende che complessivamente impiegano circa 11.000 addetti. Che cosa fare allora? Dobbiamo mettere in campo iniziative e azioni concrete per rafforzare ancora di più la competitività del comparto su scala internazionale. Circa un anno fa, muovendo da queste riflessioni e dalla constatazione oggettiva che il distretto dell'automotive può dare ancora molto al nostro territorio, abbiamo ritenuto necessario studiarlo a fondo. Pertanto, insieme alla Camera di Commercio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la Fondazione Democenter, abbiamo deciso di commissionare una ricerca che si ponesse tre obiettivi fondamentali. Mappare la filiera dell'automotive e delinearne per la prima volta in assoluto la portata economica. Coinvolgere un campione significativo di imprese, dei grandi brand ai subfornitori per individuare i punti deboli della filiera e i bisogni che finora non avevano ancora trovato una risposta. Identificare una serie di iniziative di miglioramento per superare il gap esistenti e sviluppare maggiore competitività. Non voglio certamente anticipare nulla di quanto la ricerca verrà illustrata fra poco, condovizio di particolari da Giacomo Mori, Managing Director di Alex Partner. Ma posso affermare che contiene spunti di riflessione molto interessanti. Spunti di riflessioni sull'offerta formativa del distretto, che risulta insufficiente e non adeguata ancora, si regista inoltre una consistente mancanza di risorse umane specializzate e anche la compagine dei fornitori e su fornitori si presenta un po' troppo frammentata. Per non parlare del rapporto tra le imprese e l'università, che va ampliato e migliorato. Infine, soprattutto per l'indotto, la necessità di un maggiore accesso alle fonti di finanziamento. Ovviamente, in qualità di committenti abbiamo avuto l'opportunità di visionare lo studio con largo anticipo rispetto alla presentazione ufficiale e ci siamo immediatamente resi conto che per dare risposte esaustive alla criticità e ai bisogni, compresi dai protagonisti grandi e piccoli della filiera automotive, occorreva aprire un confronto costruttivo con le istituzioni di riferimento. Abbiamo così avviato un tavolo di lavoro con la Regione, il Comune e le Università, dal quale è emerso un intento comune. Dare vita a una strategia di sistema che favorisca e sostenga lo sviluppo di tutte le potenzialità del comparto. Una strategia che sappia generare integrazione, convergenza e dialogo fra i sistemi delle imprese, della ricerca e della formazione. Il convegno di oggi ci offre l'opportunità di riflettere sulle opportunità a medio termino dell'automotive. Si tratta quindi di un'occasione importante. Vogliamo davvero che Modena e le miglia dei motori diventino un modello di riferimento in grado di competere ai massimi livelli con i distretti europei? Ora conosciamo, o comunque prossimamente, conosceremo le leve su cui agire. E se lavoriamo insieme possiamo certamente riuscirci. Grazie. Mi associo ai saluti e alle autorità presenti e a tutti quelli che sono intervenuti per questo importante convegno. Ovviamente anche da parte mia i ringraziamenti ad Andrea Bozzoli per questo grande lavoro di organizzazione, particolarmente importante. Le fondazioni di origine bancaria hanno ormai acquisito un ruolo fondamentale a supporto delle politiche di sviluppo del territorio. Lo hanno fatto in vario modo. Hanno contribuito alla ricapitalizzazione delle banche conferitarie. Hanno contrastato le situazioni di vulnerabilità sociale. E stanno sostenendo la rete del welfare di comunità. Ma lo fanno anche, e questo aspetto che in questa sede mi preme sottolineare, finanziando e sostenendo la formazione, la ricerca applicata, nella convinzione che l'investimento nel capitale umano costituisca elemento centrale del modello di sviluppo basato sulla conoscenza e sull'innovazione. Nel corso dell'ultimo mandato, tra il 2011 e il 2015, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha finanziato circa 145-150 progetti di formazione e ricerca per complessivi 20 milioni di euro. Tale impegno si è tradotto in un significativo sostegno ai dottorati di ricerca e nel finanziamento di progetti che nascono dalla collaborazione tra università e imprese del territorio, che oltre ad offrire opportunità occupazionali ai giovani, consendono di poter trasferire idee e competenze al sistema produttivo locale. In particolare nel campo della formazione post-laurea, uno degli obiettivi prioritari della Fondazione è stato e continuerà ad essere quello di favorire l'inserimento dei giovani nella ricerca universitaria. Uno degli strumenti utilizzati è quello delle borse di studio per percorsi formativi di dottorato. Dal 2011 al 2015 la Fondazione ha impegnato poco o meno di 5 milioni di euro per garantire la copertura di circa 300 borse di studi. Quattro sono le scuole di dottorato coinvolte, Ingegneria dell'informazione, Medicina Molecolare e Rigenerativa, Fisica, Nanoscienze e Scienze Umanistiche. Ora mi preme qui ricordare che la Fondazione continuerà in questo percorso strategico di sostegno ai percorsi post-laurea e lo farà nell'ambito del rispetto dell'autonomia universitaria, contenendo a sostenere i giovani ricercatori, verificando ovviamente quali sono le implicazioni che questo può garantire nel rispetto di quelle che sono le esigenze produttive, industriali del nostro territorio. Il filo di queste iniziative è l'innovazione. Le fondazioni sono naturali professori di innovazione, sono soggetti in grado di stimolare direttamente attraverso le partnership con i tanti soggetti operanti sul territorio processi di innovazione in campo economico, sociale, culturale e formativo. Un esempio per tutti che la Fondazione ha sostenuto è il bando innovazione, in cui circa 2 milioni di euro sono stati messi a disposizione delle imprese, dell'università e dei centri di trasferimento tecnologico. Sono stati 13 progetti finanziati su circa 40 presentati. Il sostegno dato alla Fondazione alla ricerca nelle cellule staminali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha sostenuto il Centro di Medicina Rigenerativa contribuendo alla realizzazione della struttura per oltre 13 milioni di euro. Ed è in questo quadro che si inserisce il contributo che la Fondazione ha voluto dare alla ricerca sulla competitività dell'industria automotive che oggi viene presentata in questa sede. L'innovazione per essere efficace ha bisogno di essere orientata e supportata dalla conoscenza. In questo caso la conoscenza non è di un prodotto o di un materiale inerte, ma di un sistema economico-sociale complesso fatto di macchine ma anche e soprattutto fatto di persone. È soltanto la qualità del fattore umano oggi elemento competitivo di carattere distintivo le competenze delle persone la capacità di essere creativi che riusciranno ad affrontare che permetteranno alle nostre imprese di affrontare lo sviluppo competitivo dei prossimi anni. Non stupisce quindi che la ricerca si sia orientata alla disponibilità di risorse qualificate nell'industria automotive e sarà uno stimolo per la Fondazione che pur in questi anni ha prestato grande attenzione alla formazione, alla ricerca come fattore strategico di sviluppo. Sappiamo quanto è importante il tessuto produttivo nell'automotive nel nostro distretto e su questo vogliamo continuare a rinvestire. Lo vorremmo fare attraverso una strategia di sistema prima il Presidente Walter Cajumi ha citato questa parola noi saremo assolutamente disponibili a fare la nostra parte mettendo a disposizione della comunità non solo risorse ma anche progettualità e anche, ci tengo a dire, strumenti per la soluzione dei problemi che oggi sicuramente dovremo affrontare e contribuire a risolvere. Grazie per l'attenzione. Grazie a Paolo Cavicchioli e l'assessore Rotella per un impegno imprevisto non può essere con noi questa mattina ma più tardi nella seconda tavola rotonda interverrà in realtà il Sindaco di Modena.